Questa stagione lo conferma da Massimo D'Appuoto che stanno benvenuti dai classici al musical che poi c'è anche il Dirty Dancing, non ci facciamo mancare niente. È il pubblico di Arezzo che ce lo chiede, i risultati sono talmente entusiasmati che noi abbiamo preso coraggio e proponiamo sempre qualcosa in più. Quest'anno ci saranno 18 recite, anzi 19 recite, inseriamo questi tre spettacoli di danza perché ci auguriamo che il pubblico sempre di più si approprie anche del linguaggio coreo, del linguaggio della danza e ci sono grandi titoli con grandi interpreti, una prima nazionale, Miss Marple, quindi un personaggio amato, tantissimo dal grande pubblico, molti rapporti tra cinema, teatro, fra letteratura e teatro, con uno sguardo anche ai classici, c'è un bellissimo Pirandello, c'è un Molière proprio perché crediamo, per esempio, in una città a Tumarezzo, il rapporto tra il teatro e il mondo esterno in particolare il mondo della scuola, i giovani, sia un rapporto molto fecondo e da coltivare con tanta attenzione.